Buongiorno, buongiorno da Onda di Gineapertura, subito la cronaca giudiziaria, aggredito dai cani morsicatori sotto casa, tre condanni arrivano dal giudice di pace di Sulmona, un episodio che all'epoca dei fatti fece molto discutere, allora sentiamo i particolari nel nostro servizio. Non assicurarono la custodia dei propri cani di razza Corso Pitbull in Maremanno Abruzzese, che uscili dal recinto della comune abitazione di Cantone e Dentro d'Acqua, si lanciarono su un cinquantenne di Sulmona, provocandogli lesioni gravissime. Per GB di 46 anni, MB di 33 e DC di 56 è arrivata ieri la condanna del giudice di pace di Sulmona, Angelo Di Francescantonio, a una multa rispettivamente di 800, 800 e 600 euro. Un lungo procedimento penale, che è arrivato a conclusione a sei anni dalla contestazione dei fatti, era il 5 novembre 2015. Stando al quadro probatorio, i tre imputati avrebbero cooperato tra loro nel provocare alla vittima lesioni personali gravissime, quali morsi di cani in più parti del corpo, saturate con 250 punti, frattura del dito medio, nonché lacerazioni delle terminazioni nervose della gamba sinistra e disturbi psicotici, come certificato dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il tutto per colpa consistita nell'omessa custodia dei propri cani. La condanna al pagamento della multa è arrivata per il reato di lesioni personali colpose, d'altronde per la persona offesa. La ferita è ancora fresca, vista la psicose degli animali a quattro zampe tuttora presente dopo quella terribile vicenda. Per gli altri episodi contestati va rilevato che per i tre imputati è arrivata la sentenza di non doversi procedere. Sono stati, cioè, prosciolti in alcuni casi per la remissione tacita della querela e in altri perché il reato è stato depenalizzato. Il lunedì scatterà la zona rossa in 37 comuni della provincia dell'Aquila. C'è preoccupazione proprio per il trend negativo della curva epidemiologica. Ci sono tantissimi comuni dell'Aquilano, nei 41 abruzzesi in zona rossa, dopo l'ultima ordinanza regionale decisa all'atere delle unità di crisi. Resta in zona rossa light Corfinio mentre esce dalla mappa Prato La Peligna che però domani ripeterà lo screening per la seconda e la terza media e per le superiori che tornano in presenza. Quindi rientro a scuola in sicurezza dalle 14 alle 19 alla scuola, alla Casa della Musica. Nel capologo dell'Aquila in particolare tutta la zona est è rossa con un po' di sorpresa, bisogna dirlo da parte di alcuni sindaci che hanno numeri bassi nei propri comuni. È il caso di Poggio Vicenze, ad esempio con 4 positivi, ma anche di Villa Sant'Angelo che ne ha una decina, mentre ad esempio a Barisciano che ha raggiunto 25 casi la situazione è preoccupante. In molti parlano di ordinanza piombata un po' così senza che nessuno se l'aspettasse, probabilmente perché ci sono comuni con numeri alti che confinano con altri e per cui si è deciso di operare ovunque. A fare il punto, raccomandare la massima attenzione, è proprio il sindaco di Villa Sant'Angelo, Domenico Nardis. Prossimi all'Aquila e Rosso ci sono Barisciano, Poggio Vicenze, Fossa, Ocre, Sant'Eusannio Forconese, Villa Sant'Angelo, Sant'Emetrone e Vestini, Fagnano Alto, Prata d'Anzidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli e Colle Pietro. Bisogna anche dire che in alcuni comuni della zona est è influire stato senz'altro il caso delle suore Ferrari perché in molti avevano i bambini nella locale scuola dell'infanzia. E per quanto riguarda l'evoluzione della curva epidemiologica in centro Abruzzo, sono 14 nuovi casi tracciati dalla ASL, ancora contagi in famiglia tra Sulmona e Pacentro, quindi un balzo sulla curva che è dovuto proprio al cosiddetto contagio domestico, una situazione pressoché stabile. Ricordiamo ancora che è in atto a Sulmona lo screening riservato alla popolazione scolastica. Una mattinata sotto tono all'ex caserma Cesare Battisti e il quarto giorno ancora quota zero positivi, però ci si aspetta che nel pomeriggio e per l'intera giornata di domani arrivi il grosso dei tamponi da processare. Per cui l'appello è quello di recarsi all'ex caserma Battisti dalle 15 alle 18.30 di oggi e poi domani ancora dalle 9 alle 13 e di nuovo dalle 15 alle 18.30 proprio per tenere sotto controllo il fronte scolastico e scongiurare l'apertura di nuovi fronti covid, quindi anche disinnescare degli eventuali e dei potenziali focolai nelle scuole. Nel bollettino di oggi compaiono infatti tre minori che almeno stando le prime verifiche non sarebbero rientrati a scuola, questo per il momento ha evitato il contagio. Non solo covid però non solo pandemia perché un ambulatorio di teledermatologia l'ASL sta per aprire a Casteldisangro. Un investimento concreto sul fronte della sanità territoriale, sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Attivare un ambulatorio di teledermatologia dell'ospedale di Casteldisangro con l'obiettivo di rafforzare l'ambito territoriale di assistenza sanitaria qualificata, limitando gli spostamenti e riducendo le liste d'attesa e l'ambizioso progetto dell'ASL1 che con deliberazione del direttore generale Roberto Testa ha preso atto della disponibilità dell'operatore economico all'indomani dell'avviso pubblico bandito per un importo complessivo di 36 mila euro. Il progetto ha durata di un anno. L'azienda, spiegano dalla ASL, è intenzionata a rafforzare l'ambito territoriale di assistenza in una zona periferica, fornendo equità di accesso e disponibilità di un'assistenza qualificata. L'ASL assicura che tale nuova modalità di prestazione sanitaria potrà essere attivata senza oneri a carico dell'amministrazione, risultando altresì particolarmente adeguata alle esigenze legate all'emergenza pandemica in corso. Al momento non si conoscono i tempi per l'attuazione del progetto che configura finalmente un investimento concreto sulla sanità del territorio, non solo Covid. E ora torniamo al caso dell'orsa a Marena, dei suoi quattro cuccioli a Goriano Sicoli perché c'è fibrillazione nel piccolo centro, l'orso sotto casa, una scena che in molti residenti sono ritrovati di fronte in queste ore, scatta l'ordinanza del primo cittadino e intanto sono stati distrutti due pollai. Facciamo il punto nel nostro servizio. Belli! 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 Divieto di avvicinarsi agli esemplari di orso Bruno Marsicano a piedi, in auto o comunque con qualsiasi altro mezzo a distanze inferiori ai 200 metri, vietato anche illuminarli, fotografarli, filmarli. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco di Goriano Sicoli, Rodolfo Marganelli, all'indomani dell'arrivo in paese dell'orsa Marena e 264 Cuccioli. Per gli orsi non esiste zona arancione che tenga, si sono spostati dall'autostrada dei parchi a Goriano, dove nel frattempo sono arrivati anche nel centro abitato, nei pressi di recinti e abitazioni. Dopo l'avvistamento immortalato e postato sui social, che è diventato subito virale, in queste ore si sono contati i primi danni nel piccolo centro. La scorsa notte i plantigrati hanno distrutto due pollai collocati sul territorio comunale, intrattenentosi a cena con una ventina di galline. Poi sarebbero entrati in un recinto a farne le spese, è stato un coniglio. La mara scoperta è stata fatta dai proprietari che hanno richiesto l'intervento sul posto dei carabinieri forestali per tutti i rilievi del caso. Insomma, Marena e i suoi cuccioli sono gli osservati speciali nella piccola comunità di Goriano Sicoli. Per questo il primo cittadino ha adottato il provvedimento che tende a garantire una convivenza serena tra plantigrati e popolazione a fronte della preoccupazione che si è creata soprattutto tra gli agricoltori. L'ordinanza prevede tra le altre cose anche l'obbligo per tutti i retentori degli animali di cortile di provvedere alla custodia degli stessi, adottando misure adeguate che impediscano l'accesso nelle strutture da parte degli esemplari di orso, ovvero curando che le stesse siano perfettamente funzionanti. Certo la presenza degli orsi talvolta ha comportato anche dei comportamenti imprudenti, ma le associazioni ambientaliste, ovvero il gruppo escursionisti di Goriano Sicoli, non ci sta a passare per un branco di incivili. Non accettiamo di passare per un branco di incivili, al massimo abbiamo preso consapevolezza della presenza degli orsi che nel nostro territorio molto probabilmente diventeranno stanziali, affermano. Chi ha fatto video condiviso riprese degli orsi sui social ha fatto scelte individuali che proprio per questo non possono essere tacciate di un comportamento generalizzato da parte della stragrande maggioranza della popolazione. Di certo e molti sono recati a vedere gli orsi e le forze dell'ordine hanno dovuto faticare non poco per gestire la situazione. Per capirlo sarebbe bastato vedere la rapidità con la quale gli animali si spostavano da una parte all'altra del paese, mettendo a segno incursioni in pollà e coltivazioni, fino a spingersi dentro i recinti delle case. Il tutto è venuto in pieno giorno, siamo certi che nessun'altra popolazione poteva essere preparata a una simile situazione. Tuttavia non ci sono stati episodi di violenza, nessuno ha imbracciato fucili, ci mancherebbe. Persino coloro che hanno avuto danni degli orsi sono dati da fare subito per rimediare, affermano dall'associazione che però richiama l'attenzione del parco Sirente Velino per i danni subiti dagli agricoltori. Siamo certi che insieme possiamo fare in modo, ma è chiaro che bisogna prendere coscienza dell'ormai conclamata presenza degli orsi anche in questo territorio. Pertanto mettere in atto tutte le attività del ristoro per chi ha subito danni, attivarsi per consegnare strutture anti-orso come pollai, recinzioni e tutto quanto sia possibile per la tutela dell'orso e delle persone. Nella centrale Snam ha sulmono ormai verso la realizzazione dopo il rilascio anche dell'autorizzazione integrata ambientale, l'AIA. Il rilascio dell'AIA è stato comunicato dal Ministero per la transizione ecologica. Nonostante la contrarietà espressa dal territorio, si va verso la realizzazione della centrale a casa e pente al termine del monitoraggio dell'aria che dovrebbe concludersi entro l'estate. Gli ambientalisti del coordinamento NOAB del gas esprimono da subito il loro disappunto verso il governo Draghi. Chi pensava che la transizione ecologica del governo Draghi potesse essere una cosa seria e quindi potesse segnare una vera svolta rispetto al passato sarà costretto a ricredersi. Si legge nella nota, sarebbe caso di chiamare il nuovo Ministero della Finzione Ecologica, vista la predilezione che il nuovo Ministro Cingolani ha per il gas. Del resto a cosa ci si poteva aspettare da un tecnico che finora si è occupato di armi e non di ambiente, si domandano gli ambientalisti. È significativo che l'autorizzazione AIA per la centrale di compressione Slam di Sulmona arrivi in contemporanea con l'approvazione da parte dello stesso Ministro della compatibilità ambientale, ovvero la via, per 11 nuovi pozzi per l'estrazione di gas e di greggio in mare e in terraferma. Altro che svolta Green si va avanti tutta con il fossile, un regalo alle grandi compagnie estrative come l'ENI che mina alla base le politiche di riduzione dei gas climalteranti, una priorità urgente e necessaria come indicato dall'IPCC e come stabilito dall'Accordo di Parigi nel 2015 dall'Unione Europea per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Molti studi scientifici dimostrano in modo inequivocabile che l'estrazione e trasporto lo stoccaggio di gas naturale sono soggetti a enormi perdite fuggitive e il gas dal quale emesso in atmosfera provoca un effetto serra molto più potente e duraturo. Stiamo attraversando una crisi ecologica e climatica gravissima che provoca disastri continui, ne è un esempio la pandemia in corso. Eppure si continua in perterriti con scelte politiche e industriali basate sul vecchio modello di sviluppo economico che tanti guasti ha provocato a livello mondiale, concludono gli ambientalisti. Sport in moto è l'evento che si svolgerà questo pomeriggio alle 17.30 nella Rotonda di San Francesco della Scarpa a Sulmona da parte del Panathon Club, un evento per presentare la nuova stagione del pilota sul monese Cristian Micocero pronto a ripartire nonostante la pandemia per centrare nuovi importanti traguardi e risultati. Quindi ne parleremo ovviamente nelle prossime edizioni. Prima di chiudere io vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Bene davvero tutto per questa edizione. Grazie per aver scelto Onda di G che come di consueto torna questa sera alle 20.10 circa. a tutti e buon pomeriggio.